per esempio se io faccio così stop boom magia capito quindi è un casino lasciate like se non vi ammazzo perché è un casino veramente io vi amo però lasciate like ciao ci vediamo nel prossimo video bella zio che fai aspetta il pullman si cazzo aspetto il pullman cioè tu che che cazzo fai io guardo la tv che cazzo fai tu cioè scusami che cazzo sai che dici troppe parolacce per la mia che cazzo come cazzo si dice ehi coglione hai detto cazzo ehi sai che dici troppe parolacce per come si dice ora pigli per il culo sto raggio io sono piccolo ma stai zitto ai vent'anni coglione eh vada vada ah che cazzo è vent'anni c'è io ho l'alzheimer ma che cazzo perché sono qui vabbè comunque è arrivato il pullman io me ne vado ok eh zio eh zio dove sei oh devo venire pure io col pullman e va bene c'è va bene io vi siete ancora nel pullman bella raga sono Arturo cazzo duro Arturo culo a tamburo e sono il narratore di questa cazzo di storia il ragazzo che aveva un telecomando in mano però quello era un telecomando laser sono ancora Arturo cazzo duro e ha ucciso il ragazzetto di me bella ragazzi questo io sono sempre Arturo cazzo duro il narratore di merda questa storia del cazzo è finita ciao ragazzi Arturo era uno spirito di merda ragazzi lasciate like vi prego vi voglio tantissimo bene ciao